mati 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 hai voglia di allenarti buongiorno amici non so se potete vederlo ma là in fondo ci sono io e quella potrebbe essere la copertina del mio nuovo disco chi lo sa buongiorno a tutti e buona domenica ragazzi finalmente ci siamo sono passati quattro anni dall'uscita del mio ultimo album solista ed è pronto il mio nuovo album paranoia airlines andate sotto il mio ultimo post spaccatelo di like e commenti e bloccate la data di uscita del disco a nessuno interessava il fatto che riuscita se siete a milano potete andare in via della liberazione 15 a farvi una foto di fianco al billboard taggarlo con l'hashtag paranoia lines così vi riposto e se andate oggi potrete incontrare anche me chiara perché una certa andremo anche noi a farci una foto quindi forse ci incontriamo eccoci qui siamo qui negli studi dove sei renza con renza e nomi negli studi rca recording studios della sony e stiamo sentendo i loro inediti in bocca al lupo ragazze e ci vediamo presto chi è che compie otto mesi con quel ciuffo carmelo lì eh tu lio auguri a te tanti auguri a te tanti auguri al giro tanti auguri a te negli nonno sei lento sei lento io c'ho fame sei lento più veloce più veloce quello che non ho imparato perché in testa c'è la nasa perché non sono mai a casa il cuore è consumato come delle vecchie fanzo e tutti gli schiaffi presi in piazza bebe 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 non esce venerdì hai il disco venerdì comunichiamo la data ufficiale ciao fammi ciao ciao papà ciao ciao papà ciao ma perché c'è lei con me che mi picchini i graffi non ti vuole dimostrare il suo amore no mi fai male mi fai male patato mi fai le cara papà tu sei un piccolo bullo tu sei un piccolo bullo fai le cara papà fammi la carezza fammi la cara grazie amore sei perplesso da questa cosa questa è proprio una foto natalizia amore amore proprio una foto natalizia mi è venuta una voglia di natale con questa foto da amore mamma mia guarda a tutti come sei diventato bravo mamma mia guarda come sei composto poi bravo amore ma come va bravo amore sei più coordinato siamo in teatro dai vai comunque volevo dire che siamo in teatro qua a X Factor e stiamo provando gli ineliti delle ragazze solo che qua mi disturbano tutti e mi fanno ridere ecco i prossimi giudici del 2019 di X Factor grazie a tutti grazie a tutti